Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di TV City in apertura. La cronaca maxi sequestro della Guardia di Finanza. Le fiamme gialle hanno scoperto a Nola 73 mila mascherine prodotte senza alcuna autorizzazione ministeriale. Poi ampia pagina dedicata alle elezioni regionali. Ieri sera a Torre del Greco la visita del ministro Lorenzo Guerini a sostegno dei candidati del Partito Democratico, Raia e Casillo. Non mancano le info utili sulle modalità di voto e una carrellata dei candidati torresi alle prossime elezioni. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro oltre 73 mila mascherine pseudoprotettive con istruzioni in sola lingua inglese o cinese e prodotte senza alcuna autorizzazione ministeriale. In particolare, le fiamme gialle del gruppo di Nola hanno scoperto a bordo di un autocarro 30 mila dispositivi di protezione individuale, privi della certificazione obbligatoria. Sequestrare i dispositivi rinvenuti è sanzionato un 25enne, di origine cinese, residente a Portici, per violazioni al codice del consumo. In un secondo intervento, le stesse fiamme gialle hanno scoperto e sequestrato oltre 43 mila mascherine FFP2, prive dei necessari requisiti di conformità. Il titolare dell'attività è stato denunciato all'autorità giudiziaria e segnalato alle autorità amministrative competenti. Le operazioni si inseriscono nell'ambito della costante attività di controllo economico del territorio disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, finalizzata a contrastare pratiche commerciali disoneste, truffe e frodi a danni dei consumatori. Le istituzioni sono vicine alla nostra comunità. A pochi giorni dalle elezioni regionali in campagna, ieri sera a Torre del Greco, intervenuto il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a sostegno di Loredana Raia e Mario Casillo, candidati del Partito Democratico a supporto del governatore uscente Vincenzo De Luca. Ministro Guerini, questa sera a Torre del Greco, a sostegno dei candidati Raia e Casillo. Sì, sono qua con Loredana e con Mario a sostenere la loro corsa, a sostenere il lavoro che hanno fatto in questi anni di impegno a Regione. Sono persone molto radicate, molto forti, che hanno grande consenso perché lavorano per le loro comunità. Daranno una mano al governo di Enzo De Luca, che è stato un governatore che ha mostrato capacità di governo anche nell'emergenza sanitaria. Credo che ci sono tutte le condizioni per far bene, per portare avanti il lavoro che hanno fatto fino adesso, con grande passione, con grande entusiasmo e anche con risultati per questa Regione. Le sfide e gli obiettivi per questi territori? Le sfide sono quelle di essere protagonisti dentro la ripresa che il Paese deve realizzare, dopo l'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto, che l'Italia ha affrontato, io credo, dando buona prova di sé, con grande responsabilità da parte dei cittadini e anche, credo, con risposte efficaci da parte delle istituzioni. Adesso bisogna far riprendere la corsa del Paese, sostenere le imprese, risolvere le questioni che hanno frenato il Paese in questi anni, a partire dalle infrastrutture, a partire dalle reti, a partire dalle connessioni e credo che questi saranno i temi che questa Regione dovrà affrontare subito dopo le elezioni. Non è mancato il plauso del Ministro per la gestione dell'emergenza sanitaria in Campania. La campagna ha risposto con grande responsabilità, con grande determinazione, con grande decisione, con grande capacità, con grande efficienza all'emergenza e alle misure che l'emergenza richiedeva. Siete bene ad essere orgogliosi delle misure che avete adottato, dei programmi che avete realizzato, della qualità del vostro sistema sanitario, anche nelle eccellenze che avete prima richiamato, del lavoro che hanno fatto gli operatori, del lavoro fondamentale che hanno fatto gli operatori sanitari, a cui non possiamo non dire grazie e che dobbiamo continuare a ricordare. Ma l'emergenza sanitaria ha messo a dura prova la nostra economia, nostra e degli altri Paesi che sono stati interessati da questa emergenza, che sono stati tutti in recessione in quei mesi e dobbiamo far ripartire l'Italia. I primi dati sono incoraggianti, però una parte di questi sono un rimbalzo tecnico, quando il PIL scende, perché si chiudono le aziende, quando si riaprono chiaramente riparte il PIL, ma i dati di cui noi oggi disponiamo sono dati che ci dicono che il rimbalzo è stato più positivo di quello che noi prevedessimo. Allora dobbiamo incoraggiare questa spinta, dobbiamo farlo con il lavoro del governo, del Parlamento, delle istituzioni regionali, delle amministrazioni comunali per fare in modo che questi strumenti portino a terra i risultati che devono portare. Lavoriamo perché questo grande impegno possa avere un risultato importante, possa avere un risultato che ha significato a Napoli, che ha significato in Campania, io credo se il risultato sarà quello che spero potrà avere anche un significato a livello nazionale. Amministratori locali, amici e simpatizzanti hanno affollato l'area all'esterno dell'hotel Sakura per partecipare al dibattito con gli esponenti del PD. L'occasione per fare il punto sul lavoro svolto in cinque anni di consigliatura e illustrare gli obiettivi da realizzare per il futuro. Loredana Rai è ormai pochi giorni al voto, una campagna elettorale atipica ai tempi del Covid, ma stasera una presenza di eccezione qui a Torre del Greco. Lorenzo Covedini era stato già qui nel 2014 come vice segretario del Partito Democratico, oggi torna in veste istituzionale per dire che le istituzioni sono presenti e sono vicine alla nostra comunità. Abbiamo scelto un luogo all'aperto per non contravvenire alle regole del Covid, abbiamo detto a tutti di indossare la mascherina e di favorire il distanziamento sociale, però evidentemente il calore che testimoniano queste presenze e tanto noi siamo felici perché questo significa che anche in questa città c'è voglia di fare politica e c'è voglia di buona politica. Tre obiettivi da realizzare per la città di Torre del Greco? Allora, intanto completare l'opera che abbiamo già iniziato per quello che riguarda la sanità. È di queste ore l'implementazione dei servizi e dei reparti all'ospedale Maresca. La settimana scorsa abbiamo cominciato gli interventi per quanto riguarda la branca ortovedica del PDTA della frattura di femore. Stiamo dando impulso anche alla chirurgia per quanto riguarda l'oculistica, io Torino, stiamo dando una nuova organizzazione e riorganizzazione della chirurgia generale perché saranno effettuati interventi anche di chirurgia vascolare qui all'ospedale Maresca. È pronto già, aspettiamo soltanto di avere gli spazi da destinare il reparto di riabilitazione. L'ambulatorio che è collegato al pronto soccorso e a tutti gli altri reparti di cardiologia oggi vede più presenze di cardiologi per assicurare un H12 e le nostre richieste vanno anche nella direzione della reperibilità notturna. Stiamo provando a migliorare l'offerta sanitaria ospedaliera. Il nostro impegno sarà per i prossimi cinque anni costruire una sanità territoriale a partire dai medici di medicina generale che sia più rispondente al bisogno dei cittadini e soprattutto che vada nella direzione del potenziamento della prevenzione. Un altro impegno che abbiamo già mantenuto perché sono partiti i lavori è quello della depurazione del mare. Fra 25 mesi il nostro mare tornerà balneabile, darà nuovo impulso all'industria del turismo che diventerà il cuore delle attività della nostra città. E poi l'ambiente. Noi ci siamo messi molto in discussione sulla questione ambiente. Anche qui finalmente dovremo parlare di parco del Vesuvio fruibile. Ci sarà la possibilità di realizzare sentieri come sta già succedendo nelle altre realtà intorno a noi. Il Vesuvio come attrattore e come risorsa è tutto collegato a un unicum che diventa il nostro obiettivo principale creare occupazione e lavoro per i nostri giovani. Election Day in Campania Il punto della situazione su come si vota. Domenica 20 e lunedì 21 settembre i cittadini sono chiamati alle urne per rispondere al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari e per eleggere il governatore della Regione ed il Consiglio regionale. Gli elettori potranno recarsi ai seggi domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Per votare è necessario aver raggiunto la maggiorità e presentare un documento di identità in corso di validità e la tessera elettorale. Per quanto riguarda il referendum, le opzioni all'urna sono due. Segnando il sì, gli elettori acconsentiranno alla riforma costituzionale del numero dei parlamentari che passeranno da 630 a 400 per la Camera e da 315 a 200 per il Senato. Segnando il no, non acconsentiranno a tale modifica lasciando invariata la carta costituzionale. In Campania i cittadini sono chiamati ad eleggere il Presidente della Regione ed il Consiglio regionale. Nell'urna potranno votare direttamente per il candidato governatore che verrà eletto con la maggioranza dei voti. Non è previsto quindi alcun ballottaggio. È possibile segnare con una croce la lista del candidato ed il nome. Nel caso in cui si segni solo la lista, il voto passerà direttamente anche al candidato, ma è possibile il voto disgiunto. Quindi segnare la lista, ma anche il nome di un candidato non legato ad essa. In questo caso entrambi i voti restano validi. Per i consiglieri regionali sarà possibile esprimere fino a due preferenze, scrivendo il nome dei candidati nell'apposito spazio nella scheda. Tuttavia, se si esprimono due preferenze, i candidati nominati devono essere di sesso differente, quindi un uomo e una donna. Ricordiamo che qualunque simbolo diverso dall'X renderà la scheda nulla. Non sono ancora chiare al momento le disposizioni anticontagio previste per i seggi. Sicuramente gli elettori dovranno arrivare alle urne indossando la mascherina e, preferibilmente, dei guanti dal momento che dovranno toccare documenti e schede elettorali. Dubbi, invece, sulla sanificazione degli ambienti, del mobilio e dell'attrezzatura, soprattutto riguardo alle matite che saranno passate in mano in mano tra gli elettori. È stato, invece, confermato che fuori ai seggi gli agenti incaricati dovranno far rispettare il distanziamento sociale ed evitare assembramenti. Verranno anche create corsie preferenziali per far accedere i cittadini maggiormente a rischio, come anziani al di sopra ai 65 anni e persone cagionevoli o malate. In questo caso verranno accompagnati al seggio di appartenenza, superando le file che si potrebbero venire a creare alle porte. Elezioni regionali in Campania A pochi giorni dal voto facciamo il punto su tutti i candidati di Torre del Greco in corsa per il Consiglio regionale. Loredana Raia, consigliere uscente e ricandidata col PD in pieno supporto di Vincenzo De Luca, ultimamente ha ribadito il suo impegno nel suo alco di quanto fatto in cinque anni al Consiglio, particolarmente nell'ambito delle politiche sociali in favore delle donne di tutta la Campania. Grande impegno anche per il potenziamento dell'ospedale Maresca. Rilancio di cantieri e turismo sono i punti focali della campagna elettorale di Clelia Gorga, con campagna libera per il presidente uscente De Luca. Un'economia da rinnovare, snellendo le procedure in favore delle aziende, è l'idea supportata dall'ingegnere Monica Ascione, figlia di Alfonso Ascione, e in corsa con Italia Viva. L'ex assessore della Giunta Palomba punta sull'occupazione giovanile e sul sistema universitario da riabilitare. Con De Luca, insieme a più campani in Europa, Michele Langella, che ha più volte annunciato che, se eletto, dedicherà il suo costante lavoro ai cittadini di Torre del Greco, per venire incontro alle esigenze più sentite dalla popolazione. Giovanna Romano, per democratici e progressisti, ha promesso il suo impegno per istruzione e sanità, puntando all'inserimento delle figure professionali del medico e dello psicologo in ogni scuola. L'avvocato Salvatore Piro, in lista con il Partito Repubblicano Italiano, ha fornito una chiara idea del suo impegno una volta eletto. Il progetto è quello di utilizzare fondi europei per finanziare le due attività fondamentali per il nostro territorio, turismo e artigianato. Fra i candidati che supportano il Presidente uscente, anche la professoressa Pina Di Donna, in corsa con il gruppo PER, persone e comunità, costituito da una rete di persone impegnate nel volontariato e nel sociale. Un progetto che vede l'impegno dei professionisti di ogni settore per supportare famiglie ed imprese e facilitare l'accesso al mondo del lavoro. Valerio Ciavolino, candidato con l'Unione di Centro in supporto di Caldoro, porta avanti da mesi campagne per sensibilizzare i cittadini di Torre del Greco su tre questioni fondamentali, il potenziamento dell'ospedale Maresca, la necessità di investire sul turismo e la questione NU. Anche Clementina Sasso e Marco Manna, candidati con potere al popolo, si battono su sanità e istruzione. Uno dei loro interventi chiedeva infatti proprio di garantire tamponi e controlli periodici e costanti al personale scolastico. di Ch